Benvenuti su Cryptovalute News! Oggi vedremo insieme, passo dopo passo, come recuperare un portafoglio Safepal usando la tua frase di recupero e successivamente spostare gli USDT recuperati su Binance. Una guida semplice, perfetta anche per principianti. Iniziamo subito! Per prima cosa, assicurati di avere l'app Safepal sul tuo dispositivo. Vai nel tuo store ufficiale, come Google Play o Apple App Store, e cerca Safepal. Scarica e installa l'app ufficiale. È fondamentale che sia quella originale, con il logo verde e bianco. Una volta installata, apri l'app. Nella schermata iniziale, seleziona l'opzione Importa portafoglio. Questo ti permetterà di recuperare il tuo portafoglio esistente usando la frase di recupero. Ora arriva la parte più importante. Inserire la tua frase di recupero. È una serie di parole uniche che ti è stata data quando hai creato il tuo portafoglio. Ad esempio, Alarm Fetch Churn Bridge Exercise Tape Speak Race Clerk Couch Crater Letter. Devi scrivere tutte le parole esattamente nell'ordine corretto, senza errori. Prenditi il tempo necessario e verifica ogni parola prima di procedere. Una volta inserite tutte le parole, clicca su Conferma. L'app lavorerà per recuperare il tuo portafoglio. Quando tutto è pronto, vedrai il tuo saldo USDT disponibile. Copia l'indirizzo del portafoglio su Binance. Adesso passiamo alla seconda parte. Spostare gli USDT recuperati su Binance. Apri l'app Binance, vai nella sezione Portafoglio e seleziona Deposita. Cerca USDT e copia l'indirizzo unico che Binance ti fornisce per il deposito. Riapri SafePal e vai alla sezione USDT. Seleziona Invia e incolla l'indirizzo che hai appena copiato da Binance. Controlla sempre due volte l'indirizzo per evitare errori. ERC20, che è più lenta e ha commissioni più alte. TRC20, che è più veloce e conveniente. Assicurati che la rete scelta corrisponda a quella supportata su Binance. Inserisci l'importo di USDT che vuoi trasferire. Puoi selezionare tutto per inviare l'intero saldo. Una volta confermato, l'app ti chiederà di inserire il PIN o approvare tramite autenticazione biometrica. Questo passaggio protegge la tua transazione. Aspetta la conferma del trasferimento. Una volta completato, torna su Binance e controlla nella sezione Storico dei depositi. I tempi di trasferimento dipendono dalla rete scelta. TRC20 richiede solitamente pochi minuti. ERC20 può impiegare più tempo. Riceverai una notifica da Binance quando il deposito sarà completato. Prima di chiudere, ecco alcuni consigli importanti per la tua sicurezza. Conserva sempre la tua frase di recupero in un luogo sicuro e non condividerla con nessuno. Controlla attentamente gli indirizzi prima di confermare una transazione. Usa reti sicure e dispositivi affidabili per accedere ai tuoi portafogli. Ecco fatto! Hai imparato come recuperare il tuo portafoglio SafePal e spostare gli USDT su Binance in pochi semplici passaggi. Se questa guida ti è stata utile, lascia un like, iscriviti al canale CryptoValute News e scrivici nei commenti quali altri argomenti vorresti vedere. Grazie per aver guardato e alla prossima!